primo malore all'isola dei famosi si tratta di lei la modella brasiliana elena prestes che ha avuto malore e tutte le naufraghe per lei si sono immediatamente allarmate e preoccupate la modella brasiliana infatti ragazzi si è sentita male nella notte fra il secondo e il terzo giorno approdata sull'isola dei famosi dopo aver mangiato infatti dei lumaconi di mare crudi pescati proprio davanti al caldonazzo la prima ad accorgersi del malessere di elena è stata corinne cleri che immediatamente ha dato poi l'allarme per fortuna nessun'altra naufraga ha mangiato i lumaconi di mare e quindi non hanno avuto i suoi sessi sintomi elena come raccontano le sue colleghe naufraghe aveva mal di pancia si sentiva male ha vomitato e mal di gola quando la modella gli ha chiesto se prima stava delirando l'attrice francese ha confermato si deliravi non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese forse stavi sognando elena è stata vittima di un'intessicazione alimentare ha mangiato delle lumacche crude che evidentemente a lei hanno fatto male e non doveva assolutamente mangiare aveva la modella tutti i sintomi di quel malessere freddo mal di gola spossatezza vomito e mancanza di lucidità diciamo che siamo solo al terzo giorno non oso immaginare cosa accadrà nei prossimi giorni sull'isola dei famosi tu cosa ne pensi scrivono nei commenti lasciami un like se ti vai ti raccomando iscriviti al mio canale ciao e alla prossima